Asi e sulla Tari, in ordine la tassa sui servizi pubblici e la tassa sui rifiuti. Fabrizio Bertot, il consigliere dell'opposizione e leader di Riparolium, nell'ultimo consiglio comunale ha sollevato la causa in quanto ritiene immorale il processo di polisi attivato dall'aggiunta comunale che prevede l'innalzamento al 26% della Tari e l'accorpamento in un'unica tassa di IMU e Tasi. Ecco, non vorrei discutere della scelta dell'aggiunta comunale che è portata magari da una logica di risparmio sul bilancio comunale che magari in questo momento sta attraversando un momento di grande difficoltà. Ecco però questo momento di grande difficoltà lo stanno attraversando anche i cittadini, in quanto il coronavirus si sta portando ancora dietro molti danni economici. Però non vorrei insistere su questo, vorrei parlare appunto dei servizi che la nostra città, la nostra giunta ci riserva. Ecco perché la Tasi e la Tari, nonostante siano delle imposte sul reddito, ci devono anche garantire dei servizi base. Ecco, la città di Livarolo secondo me in questo momento non ci sta garantendo i servizi base. Mi viene da pensare solo all'illuminazione che ormai è obsoleta, basti pensare al corso di indipendenza la sera, in quanto i lampioni lampeggiano continuamente e sembra quasi di entrare in un film dell'orrore e non nel centro della nostra città. E questo dovrebbe essere, il corso di indipendenza dovrebbe essere la strada, la via che ci porta in maniera calorosa al centro della nostra città. Poi vorrei parlare anche della Tari, in quanto come anche la nostra testata giornalistica ha riportato più volte, spesso i rifiuti vengono lasciati nella città per giorni. Questo crea una situazione di disagio assurda secondo me che non è mai capitata da anni. Ecco, come mai siamo arrivati a questo momento? Questo lo vorrei capire, sincero vorrei avere delle risposte, anche perché chi ne paga le conseguenze sono sempre i cittadini e i piccoli commercianti che si trovano ad accogliere clienti in strade poco accoglienti e questo secondo me è un grande problema per il commercio interno di Livarolo. Ovviamente non possiamo conoscere perfettamente la situazione delle casse della nostra città e delle aziende che si preoccupano della manutenzione della nostra città, però abbiamo bisogno al più presto dei servizi base e soprattutto di risposte, quelle che mancano ormai da anni. Grazie dell'attenzione, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Grazie a tutti.